Una vittoria a frutto della voglia di vincere, della voglia di continuare a far bene, perché questa squadra sta facendo, secondo me, grandi cose. Contro una Turris veramente organizzata, una squadra che gioca a calcio, quindi sapevamo di affrontare anche un avversario difficile. Quindi questa vittoria ha un valore diverso e la squadra ha risposto alla grande, ma non avevamo dubbi, l'ho ripetuto più volte in questi giorni, perché non ha mai tradito. E' una squadra che non ha mai tradito le attese, poi probabilmente qualche passaggio a vuoto c'è stato, ma credo che faccia parte anche di una normale crescita in un gruppo comunque con tanti ragazzi anche giovani. Quindi andiamo avanti per la nostra strada, siamo convinti e consapevoli che possiamo divertirci e possiamo regalarci ancora delle soddisfazioni. Ci siamo dalla prima giornata, che siamo lì in una buona posizione di classifica, abbiamo un po' perso terreno, perché è normale, sono uscite fuori anche le squadre veramente attrezzate. Noi siamo sempre lì aggrappati a questo treno, quindi la vittoria ci serviva soprattutto per arrivare ai playoff in una condizione ottimale. E credo che sia fondamentale, anche grazie al recupero di Billie Jean, AK, Soprano e tanti ragazzi che comunque venivano da una serie di infortuni. Credo che sarà importante soprattutto arrivare in una condizione eccellente, questo che farà la differenza. Noi siamo al campo tutti i giorni. Io vi dico che questa squadra, anche individualmente, quest'anno è cresciuta tantissimo. Se andiamo a vedere, a partire da Lewandowski, Tentardini, Piacentini, tutti quei ragazzi che comunque erano con noi l'anno scorso, Costa Ferrera, Bombaggi, Arrigoni, Santoro, lo stesso Ilari, vi parlo di quelli che in qualche modo quest'anno stanno facendo bene, ma perché c'erano anche l'anno scorso. E quindi è una squadra che sta rendendo comunque al massimo. Ovviamente c'è stata qualche battuta a vuoto, quindi al di là di tutto la squadra è sempre motivata ed è sempre, diciamo, sul pezzo, ma lo sta facendo dalla prima giornata. Quindi non credo che ci sia bisogno di motivazioni. Credo che sia umano anche sbagliare una partita. Ovviamente eravamo tutti delusi, domenica dopo la partita, ma tutti in primissi loro. Immaginate che voglia di vincere c'era già dopo la partita di Vibbo. La reazione è stata al di là della presenza o meno del Presidente. Cioè noi dobbiamo, essendo dei professionisti, dobbiamo rispondere a prescindere, fornire sempre e dare sempre il massimo in campo. Questo è quello che è nelle nostre possibilità e quello che dobbiamo fare ogni volta. Quindi al di là della presenza o meno del Presidente, che può essere ovviamente deluso, ma io credo che a questa squadra non si possa tirar fuori il sangue. Nel senso che sono, come dire, troppo convinto delle qualità di questi ragazzi. Io credo che tutti noi eravamo delusi, ripeto, dopo la partita di Vibbo. Poi l'espressione può essere anche esagerata, pesante, lo possono fare anche i tifosi. Noi siamo qui a prenderci anche delle critiche, ma siamo anche dei grandi professionisti. E quindi rispondiamo sul campo, tanto è inutile girarci intorno. Sono sempre le vittorie che contano, perché ci si dimentica spesso di tante cose. E quindi pazienza, insomma, si va avanti. Non è un problema. Faccio questo da una vita, quindi so bene che alcune volte certe parole possono ferire, ma l'importante è poi rispondere sempre da uomini. Io credo che ci sia la massima disponibilità. Ma prima di parlare di contratti o di questioni economiche, credo che sia giusto parlare di programmi, di quali aspettative abbiamo e qual è l'obiettivo di tutti noi, anche in base a una possibile riforma, ed è quello che sta attendendo il Presidente. Sarà un passaggio fondamentale e determinante, proprio perché deciderà le sorti anche il futuro, non solo del termo, ma di tante altre. Ecco perché dobbiamo affrontare al massimo queste ultime quattro partite e i play-off. Perché vogliamo dimostrare a tutti di poter restare a Teramo e perché c'è tutta la volontà e la voglia di continuare un determinato progetto. Io credo che sia quasi, ripeto, naturale. L'importante è che c'è la volontà di fare le cose per bene. Grazie. Grazie.